La sintetizzazione del mondo in due dimensioni nei videogiochi rende quest'arte un tutt'uno con il fumetto e l'animazione. Sperigiona l'immaginazione e la creatività, lasciando una traccia indelebile nei nostri cuori. Non è poesia, ragazzi, filosofia, né qualcosa di metafisico. Tutto diventa un vero e proprio trattato scientifico. E tu cosa diventi? Diventi padrone di un'opera d'arte che come un omicidio nulla è messo a caso. Nel 1859 nacque uno tra i più grandi geni in ambito artistico. Egli fu il pioniere del movimento puntinista, ma allo stesso tempo fu il padre per Antonomasia della prima rappresentazione grafica dei videogiochi, ovvero il padre del pixel, si potrebbe dire. Stiamo parlando ovvero di Georges Seurat. Georges Seurat fu un grandissimo artista del Novecento. Egli fece parte appunto della cerchia degli post impressionisti. Nonostante il grande impatto emotivo dinanzi alle sue opere, come ad esempio la domenica pomeriggio all'isola della Grandiato, oppure il circo, egli non era di tendenza espressiva, ma di tendenza analitica. Egli elaborò il suo stile e la sua tecnica grazie alle teorie di Chevreuil, che apre e chiudo parentesi Campo Centano. Ma vabbè comunque, Chevreuil fu un chimico francese. Egli grazie alle sue teorie sul contrasto simultaneo, ovvero l'unione di due gambe di colori complementari, e anche grazie alla ricomposizione retinica, Seurat riuscì a dare vita appunto alla tecnica epuginista. Chevreuil vide, studiando gli arazzi, che due fili di lana, visti ad una certa distanza tra loro, creavano un colore completamente nuovo, che era appunto dato dalla somma delle due gambe. Grazie quindi a queste teorie, nacque per mano di Seurat il puntinismo, o anche detto divisionismo. La cosa grandiosa di questa tecnica è che il quadro emanava un'immensa luminosità, non si andava a colorare i punti, oppure a sfumarli, perché il quadro emanava già di per sé una luminosità infinita. In merito a ciò, quindi, si può anche intuire come questo discorso sia collegabile al campo videoludico. Stiamo parlando dei videogiochi in 2D, e in particolar modo quelli realizzati in pixel art. Gibbo, ma stiamo parlando di Minecraft, tipo, cioè quello è pixel, Minecraft... non è... No. No. La pixel art è una forma d'arte digitale che segue le orime del puntinismo. L'immagine è appunto realizzata pixel per pixel, con appositi programmi grafici. Ad esempio, in questo screenshot di Mario, potete notare un esempio di pixel art. Come possiamo vedere, ragazzi, qui c'è un background statico e personaggi che si muovono su di esso. Questi sono delle sprite. Lo sprite è una figura bidimensionale che viene spostata rispetto allo sfondo. In realtà, per realizzare appunto questo effetto ottico, lo sprite appunto ha una trasparenza dietro di lui. Quindi il personaggio che viene stampato dietro a una trasparenza è attraverso degli algoritmi, attraverso con dei linguaggi di programmazione, si riesce a dare degli algoritmi per fare in modo appunto che questo sia stampato. Un nuovo sprite è fondamentale sia per i giochi in 2D che per alcuni in 3D. È data un'immagine che... è data si stampa un'immagine che è l'insieme di tanti sprite. Un'immagine enorme che viene chiamato Atlas, che viene chiamato Sprite Set, ma non vorrei fare tutto il perfettino, tutto... Non so come cazzo si chiama, può chiamarsi Atlas, può chiamarsi Sprite Set, quindi in un certo senso questa immagine viene poi divisa in tante parti e vengono le singole parti stampate all'interno di questo sfondo. Alcune persone pensano che i videogiochi in 3D siano più realistici matematicamente e fisicamente rispetto ad alcuni in 2D. Cioè, ragazzi, cazzate, non è vero, perché? Basti pensare che c'è una vera e propria fisica ferrea dietro ai videogiochi in 2D. Che ne so, serve appunto per simulare la fisica, la gravità, le collisioni, tutte queste cose vengono comunque implementate attraverso dei linguaggi di programmazione e sembra appunto che il protagonista sia vivo. Per dare un certo, un vero e proprio realismo a videogiochi anche in 2D, non si fa altro appunto che dare una vera e propria ferrea fisica, ripeto. In questo caso ho scritto due semplici formule che riassumono il movimento esatto del nostro Beniamino Baffuto. Attraverso una semplice legge oraria del moto, rettiline uniforme, Mario assume proprietà fisiche che lo rendono più realistico. Il fatto che c'è meno fotorealismo rispetto a un videogioco 3D, ragazzi, paradossalmente, è un bene. Come ho già detto, sembra di essere immersa all'interno di un fumetto, all'interno di un film d'animazione. Quindi, in realtà, noi vestiamo i panni del nostro Beniamino, vestiamo i panni del nostro protagonista e proviamo le sue stesse emozioni. Il nostro scopo non è quello di valorizzare questi giochi in 2D soltanto dal punto di vista fisico-matematico, ma anche e soprattutto dal punto di vista tematico ed espressivo. Seriamente, mi sta davvero sul cazzo la frase «Ei miei videogiochi in 3D sono molto meglio di quelli in 2D!» Ragazzi, sono stronzate! Soltanto perché, ad esempio, in un Assassin's Creed zompiamo da una parrocchia, uccidiamo la gente con delle lame celate di merda. Non vuol dire che il gioco è più serio. Volete un esempio o non è un pante? Uno che calza davvero a pennello, Shank o Shank 2. Ci sono ottime animazioni, un stile grafico meraviglioso ed è rapido e violento al punto giusto. La trama del 2, personalmente, la trovo alquanto banale, ma ok, vi piacciono robe supercafone all'Assassist's Creed? Bene, allora provatelo, e poi venite a dirvi che i giochi in 3D sono meglio. Un altro esempio lampante sono i giochi punta e clicca in due dimensioni. Basti pensare a giochi come Monkey Island o il Professor Layton. In questi giochi viene sintetizzato il mondo in due dimensioni dove tu, e soltanto tu, sei il protagonista e la storia, sei tu a scegliere il tuo destino. Sapete, sono giochi come questi che accendono un paio di neuroni alla gente. Date retta a me, accendete un po' il cervello, giocate a questi giochi. Noi non vogliamo svalorizzare i videogiochi in 3D. Ci sono tantissimi giochi che hanno fatto il botto. Basti pensare ai V-Rain, basti pensare all'ultimo Tomb Raider, basti pensare alla serie Bioshock. Comunque, nonostante questo, comunque noi non vogliamo, appunto, andare contro il progresso, contro la crescita e lo sviluppo tecnologico. Però vogliamo comunque cercare di dire ricordatevi le vecchie pelle, ricordatevi i vecchi giochi che hanno fatto crescere, che ci hanno comunque accompagnato nella vita, che ci hanno sensibilizzato. Basti pensare a Sonic, basti pensare a Super Mario Bros, a Pokémon. 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 Ci vorremmo un video a parte del Pokémon, e quindi non vorrei dire in due secondi questo grandissimo fenomeno. Comunque, il punto è che nonostante ci siano grandissimi giochi in 3D, molti non vanno sottovalutati. Cioè, non dobbiamo sottovalutare, non dobbiamo prenderli appunto sotto mano, ma dobbiamo appunto cercare di pensare che comunque questi ci hanno fatto crescere. e sono gli stessi giochi che tuttora comunque vanno forti. Basti pensare, ad esempio, a Ream and Legends, oppure, come ha già detto oggi, Boa Shank e Shank 2. Questi giochi sono fantastici da qualsiasi punto di vista, graficamente, sia dal punto di vista tematico, dal punto di vista del sonoro, da qualsiasi punto di vista. E hanno un intrattenimento, un divertimento, e comunque sono fantastici. Cioè, non hanno rivali, secondo me. Il punto è non sottovalutare questi giochi, non bisogna mai, 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 mai generalizzare. Ci hanno fatto piangere, ridere, responsabilizzare. Why you, vi ricordavate? Correvamo dall'amichetto per vedere anche il punto del gioco era. Ci stavamo affezionati, abbiamo dato il cuore. Come ci ha insegnato il buon Shura, sintetizzare il mondo non significa abbandonare il realismo. ma approdare verso nuove frontiere significa non rimanere più con i piedi per terra e cercare di volare. I giochi in 2D sono sia il passato che il presente. Sono ricordi sommersi che stanno nella nostra mente ma arrivano passando per il cuore. con i piedi per la terra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.